Buonasera dal Museo Giorgio Vallè con la dottoressa Tommasina Budet. Dottoressa, finalmente siamo arrivati? Apriamo? Oggi apriamo finalmente il nostro gioiello della penisola sorrentina del Museo archeologico territoriale e titolato a Giorgio Vallè. Siamo tutti molto contenti, abbiamo fatto un percorso che rispetta tutte le norme anti-Covid con distanziamento, privilegiando un circuito di visita che vi mette all'uscita nel bellissimo parco di Villafundi che è stato anche oggi riaperto per il pomeriggio per apprezzare non soltanto il paesaggio ma anche il ninfeo che è in parte ricostruito nel parco. Per questa riapertura naturalmente siamo anche lieti di far conoscere la mostra multimediale sugli ultimi scali della Trinità perché l'avevamo inaugurata subito prima della chiusura del lockdown a seguito del Covid. Quindi speriamo che questa mostra che riguarda non soltanto i reperti ma una ricostruzione della ritualità delle necropoli e speriamo che sia apprezzata dal pubblico. Speriamo di fare anche una bella pubblicità. Facciamo un invito, venite perché per chi lo ha visto è semplicemente spettacolare quello che sono riusciti a fare con accuratezza e competenza. Tra l'altro riapriremo di nuovo anche la mostra Vacanze da Imperatore sempre con strumenti multimediali che riguarda la ricostruzione della decorazione musiva dello splendido ninfeo a mosaico di Massa Lombrense. Grazie dottoressa e ti aspetto a tutti. Grazie.